buongiorno commissione speciale mobilità traffico della quinta circoscrizione del 27 11 2020 ore 10 e 49 chiamiamo l'appello lo sardo presente di gesù assente assente palazzo presente stabile assente teresi assente due presenti tre assenti presidente non c'è il numero si a quanto però non c'è il numero legale ciò e ciò mi dispiace tantissimo volevo altresi comunicare prima di diciamo di di chiudere anche se non sia non abbiamo ancora aperto per una comunicazione e la si può fare sempre che siamo nella registrazione sì sì in questo senso esatto per la grazia per la precisazione noi siamo appunto entrati in collegamento un po un po di tempo un po in ritardo rispetto all'orario all'orario previsto perché siamo stati impegnati con la commissione permanente attività sportive per un sopralluogo presso la palestra di borgonovo quindi abbiamo fatto tardi e questo appunto è il motivo per cui stiamo aprendo un po in ritardo va bene detto detto fatto non ci sono le condizioni per poter aprire la seduta della commissione che la rinvio appunto che viene rinviata di un'ora grazie alle 11 e 51 va bene ok perfetto dice 11 e 51 ci ricolleghiamo ok io comunico pure che sto rimanendo in loco per vedere il flusso veicolare via castellano angolo via pronto io rimango qui in loco va bene grazie grazie a dopo a dopo a dopo